Musica Attimi di panico in questa giornata estiva per alcuni cittadini di San Giovanni Rotondo. In una palazzina nelle vicinanze di Parco del Papa, via Maria Tosto, si è sviluppato un incendio che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere originato dal piano Cantina. Al momento non si conoscono le cause dell'improvvisa combustione, sulle quali i vigili del fuoco stanno cercando di fare chiarezza. Sul luogo dell'incendio sono forse i carabinieri, la polizia locale e un'autoambulanza per gestire l'emergenza. Non si registrano feriti, solo tanto spavento da parte degli inquilini della palazzina, che stanno evacuando l'immobile con il supporto di autoscale fornite da ditte locali. Le raffiche di vento hanno certamente contribuito al rapido propagarsi delle fiamme, che i vigili del fuoco stanno provvedendo ad estinguere.